Buongiorno a voi, ringrazio a lei per la gentilezza, ringrazio anche il suo collaboratore Alberto per aver consentito questo collegamento con assoluta professionalità e intanto vorrei in prima battuta che lei ci restituisse un po' il racconto con alcuni numeri della situazione a Leccia. I numeri su scala regionale li conoscete, su scala provinciale anche, la protezione civile nazionale non diffonde il dettaglio dei comuni che adesso però ci viene comunicato a fine aggiornata dalla regione Puglia, attualmente i casi positivi nella sola città di Lecce sono 25, questo è il dato ultimo aggiornato a praticamente pochi minuti fa. Quello che più rileva in questa fase che controllo ogni mattina è il tasso di copertura dei posti letto di terapia intensiva nelle strutture ospedaliere regionali, in Puglia siamo intorno al 10-11% e questo è un dato molto significativo perché le ragioni di quest'ulteriore disposizione del governo e sospensione delle attività produttive non essenziali scaturisce dall'insostenibilità delle strutture ospedaliere di gran parte delle regioni del nord che hanno esaurito i posti letto di terapia intensiva. C'è quindi una urgenza quella di dare un stretto ulteriore e chiudere gli stabilimenti di produttivi che di fatto hanno determinato che ogni giorno nonostante la vigenza del decreto circa il 45% di spostamenti delle persone fisiche si registrasse per la necessità dei lavoratori di raggiungere le proprie aziende, le proprie fabbriche, gli stabilimenti ai quali lavorano. Quindi c'è questa necessità, fortunatamente osservando i dati regionali si percepisce come questo grafico di percentuale dei posti letto di terapia intensiva abbia questo andamento decrescente da nord a sud, significa che da una parte le misure di contenimento che sono state varate evidentemente stanno garantendo la tenuta e poi questa disponibilità di posti letto che in prospettiva di medio periodo ci conforta. Ecco, a proposito, l'ospedale di Lecce è stato convertito, uno degli ospedali, anche ad ospedale Covid-19. Sì, proprio ieri si sono aperti i padiglioni, sono stato ieri nella tarda mattinata insieme al direttore dell'ASL Rollo a salutare i medici, gli infermieri, a prendere diretta visione dei padiglioni, delle sale, del pronto soccorso. Questa è una struttura che è stata riconvertita nella sua logistica ai fini di una specializzazione per i pazienti cosiddetti Covid. Quindi adesso da lunedì ci saranno questi 40 posti di terapia intensiva, è un importante servizio in questa fase naturalmente di emergenza che rassicura i salentini ma anche i pugliesi perché diventerà un riferimento per l'intera regione. E per quanto invece, guardi Sindaco, io conosco benissimo la città di Lecce, la città dove ho studiato, tanti amici lì, è una città che amo profondamente e so che in queste ore il tessuto produttivo della città è in difficoltà giustamente, gli operatori sono preoccupati, però è nell'eccese, nello spirito del cittadino di Lecce l'essere ottimista, proiettato verso il futuro, verso l'alto, così come ci insegna anche il barocco con la sua estrosità, con la sua bellezza. La situazione della città di Lecce non è diversa da quella di tutte le altre città d'Italia, che sono colpite profondamente nel tessuto economico e sociale, le intere filiere produttive, le intere filiere di servizi registrano paurosi cali di fatturati che lasciano segni profondi nella vita delle aziende, dei titolari e di chi vi lavora. È inutile precisarvi che anche qui, come altrove, le strutture ricettive sono pressoché vuote, quindi le attività commerciali che sono il segno anche di una vitalità diffusa e di attrattività del territorio ferme da due settimane e saranno a ferme probabilmente ancora per un bel po' a sentire quelli che sono gli annunci di durata dei prossimi decreti. Per quanto riguarda le norme contenute nel DL Cura Italia, come le ritiene? Come lo giudica? È il massimo sforzo possibile che il governo e il bilancio dello Stato possono consentirsi, ma sono evidentemente insufficienti per curare la gravità della situazione, sono come un pannicello caldo, diciamo che sono misure di sostegno sociale, di welfare, non misure di rilancio economico che necessitano di ben altre risorse. Consideri che la Germania, che ha 80 milioni di abitanti contro il nostro 60, ha varato con le parole di Angela Merkel, il cancelliere, un'operazione da 550 miliardi, quindi ci rendiamo conto di essere su scale completamente differenti. è superata questa emergenza che appesantirà la caduta del sistema produttivo italiano, da domani ci sarà il fermo di tutte le attività produttive giudicate non essenziali, sono milioni e milioni di lavoratori a casa, interi comparti che saranno bloccati fino almeno al 4 aprile e quindi finita l'emergenza che speriamo duri il meno possibile, ci sarà uno scenario economico sociale post bellico e quindi ci sarà veramente da rimboccarsi le maniche, da da chiedere operazioni straordinarie perché il Paese ne avrà urgente bisogno. Intanto Sindaco avete ottenuto proprio nelle scorse ore un importante risultato con il collega di Polignano Vitto ma anche con il Sindaco De Caro lo stop alle attività legate e collegate al gioco d'azzardo. Sì, rispetto allo scenario che stavamo descrivendo è un risultato legato alle misure di contenimento della propagazione del coronavirus attraverso il venir meno di occasioni di spostamento delle persone fisiche, paradossalmente in queste due settimane si è detto agli italiani di restare a casa se non per le operazioni assolutamente necessarie eppure nei nostri tabacchi che sono comunque oltre alla vendita dei prodotti tipici anche presidi di pubblica utilità perché garantiscono attraverso i punti post, pagamento di bollette, manche da bolle eccetera ci si poteva regare per scommettere, giocare e questo determinava presenze assolutamente inutili all'interno degli stessi per cui la richiesta che ci è giunta da più parti, soprattutto dai titolari delle tabaccherie era quella di chiedere la sospensione delle attività di lotto e della lotto e attraverso un'iniziativa che abbiamo portato avanti con Antonio De Caro e con l'Anci siamo riusciti a ottenere questo provvedimento che eviterà che molte persone escano da casa per andare a tentare la fortuna, in questo momento tentare la fortuna è quella di salvaguardare la salute dei cittadini, di se stessi e degli altri. Sindaco, come è fatto anche con il collega De Caro, vorrei chiudere con lei con un messaggio dedicato alla giornata mondiale dell'acqua. La giornata mondiale dell'acqua, in questo momento si associa a tante riflessioni, noi siamo chiamati a misure di igiene personali che stiamo valorizzando nel pieno significato, questo avviene attraverso l'uso dei nostri rubinetti dal quale scorga acqua pubblica, con la quale ci laviamo le mani, a Puglia, regione e ospede più grande acquedotto d'Europa. Quindi partire anche dalla considerazione dell'acqua come bene pubblico ci fa capire come nelle fasi di crisi, nelle emergenze, la tutela dei beni pubblici, dei servizi pubblici rappresenta la migliore difesa delle proprie comunità. Quindi la giornata dell'acqua può servire anche a rafforzare la consapevolezza del ruolo dei cosiddetti beni comuni nel benessere che dobbiamo dover e poter garantire a tutti. Sindaco, mi saluti tanto Lecce e i leccesi. Grazie, grazie a voi per l'ospitalità e buone cose per tutto. Grazie, grazie mille a lei per la disponibilità, grazie al sindaco di Lecce, Carlo Salvemini. Noi ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria tra poco.